Ok, buongiorno, procediamo con l'appello della seduta odierna. Sì, allora, seduta 51 del 16 marzo 2021, procedo all'appello. Consigliera Giroffi, io presente. Consigliera Caronia, assente. Consigliera Ferrara, assente. Consigliera Gentile, assente. Consigliera Melluso, assente. Presidente Russo, assente. Consigliere Tantillo, assente. 10.07, mancanza del numero legale. Giulia. Scusate, parlavo con il microfono spento. Dicevo che il numero legale non c'è, quindi è constatata l'assenza del numero legale, la seduta è chiusa. Stacchiamo la registrazione e noi ci vediamo domani. Ciao.